Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, è terminata la partita tra Francia e Belgio, 1-0, autogol di Vertonghen, su tiro di Colomani, oggi Colomani si può dire che è stato finalmente decisivo, è entrato in campo al posto di Marcus Thuram e ci ha messo lui lo zampino. Che dire, è una Francia che a mio avviso ha creato tanto e poi per spingersi con tanti giocatori in fase offensiva ha anche rischiato di concedere qualcosa di troppo al Belgio, soprattutto un'occasione nel finale con De Bruyne e un giocatore come lui deve e può fare assolutamente meglio. Il Belgio comunque ha insidiato un po' l'11 di De Champ, Maignan ragazzi, non lo so, ha fatto un intervento anche coi piedi sul calcio di punizione abbastanza semplice a mio avviso da leggere, non lo so, non mi sta convincendo, io non vedo il Maignan del Milan di così alto livello. Quando l'altro giorno vi dicevo, io fossi il Milan, valuterei un attimo nel caso di venderlo, proverei a prendere un potere come giovane, come Mamard Arshvili o del Valencia, il giocatore Giorgiano. Io fossi il Milan farei un po' di riflessioni, stessa cosa per Nico Williams lasciando andare le au, io fossi il Milan un bel po' di riflessioni le farei. Ma detto ciò, è stato un belgio che comunque ha provato a fare qualcosina, però troppo poco, perché comunque se leggiamo le statistiche ha tirato 5 volte di cui 2 in porta. Troppo, troppo poco, troppo poco. Poi certo, se guardiamo la Francia che ha fatto 20 tiri e uno solo in porta, la cosa è abbastanza preoccupante. La Francia veramente fa fatica a prendere la porta, di fatto è il secondo gol che segna su autogol, un gol solo l'ha fatto su rigore, cioè su azione fa fatica a segnare, per la rosa che ha è una cosa incredibile. Permettetemi di dire che non mi è piaciuto assolutamente l'arbitraggio, ho trovato il giallo arabio senza senso e scandaloso e salterà la partita dei quarti, probabilmente a mio avviso contro il Portogallo. Eccolo lì, l'aiutina Cristiano. No, però comunque sì ragazzi, ho visto una Francia che, come sempre, ha qualità, ha qualità. C'è Chouaménica, mi piace moltissimo, c'è Griezmann che fa un lavoro incredibile, aiuta tanto in difesa. Oggi mi è piaciuto anche Teo, ma la sfida che mi è piaciuta di più è stata quella con Koundé. Koundé con Doku è stato un bellissimo duello, una bellissima lotta e Koundé a me piace proprio tanto. È cresciuto in una maniera incredibile questo ragazzo, ha fatto una grandissima partita, però dalla Francia, ripeto, ci si aspetta qualcosa in più. Fa fatica a prendere la porta, ragazzi, è spiegabile, non riesce a prendere la porta, non ce la fa, non ce la fa. Mbappé si intestardisce troppo, a mio avviso, cerca troppe volte, fa sempre, fa spesso e volentieri la stessa giocata. O va sul fondo e prova a metterla dietro, o se no cerca di rientrare e tirare a giro, rientrare e tirare sul secondo palo. Cerca spesso e volentieri quella giocata lì. E il problema è che non li sta nemmeno riuscendo in questo europeo. Li riesce spesso, li riusciva spesso con il PSG, ma non li sta riuscendo in questa edizione degli europei. E comunque sì, anche da lui ci si aspetta di più, perché un giocatore come Mbappé, lì davanti, deve darti un peso specifico di un certo tipo. Non mi è dispiaciuto Turam, non mi è dispiaciuto, non ha fatto niente di che, ma non mi è dispiaciuto, secondo me il 6 lo prende. Però è una squadra, ragazzi, la frase che ha tutto, ha passo, ha fisicità, classe, ha tutto questa squadra. Eppure fa una fatica incredibile, è abbastanza surreale, è abbastanza inspiegabile, però, ripeto, in una partita in cui comunque sia ha fatto fatica sotto porta, è comunque arrivata alla conclusione 20 volte. Cioè, è questo da dire. Come prestazioni per sé, a me la Francia però non è dispiaciuta, ragazzi, perché comunque sia ha messo lì il Belgio. L'ha messo lì, poi il Belgio è veramente deludente. È una nazionale che ha potenzialità, qualità, ma da anni, e poi adesso ha anche giovani importanti. Ti basta pensare a Doku, a Teat, che a me piace, o Teat, che a me piace tanto, ha lo stesso Penda dell'Ipsia, che ha 24 anni. Cioè, di giocatori, giocatori ne ha. Giocatori ne ha. Eppure, passata al girone per il rotto della cuffia tra i fischi e gli istituti dei propri tifosi, e anche quest'oggi, troppo poca personalità. Io, ripeto, capisco che giochi contro la Francia, capisco che la Francia sia la più forte, però vedere quel qualcosa in più non guasterebbe. Non guasterebbe e poi deve riuscire a solitare le occasioni. E, ragazzi, anche oggi Lukaku è stato messo poco in condizione. Perché poi, e ho sentito tante volte le critiche a Lukaku, eccetera, 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 però diciamoci anche la verità. Quante volte in queste competizioni poi di fatto Lukaku viene messo in partite importanti al centro dell'attacco? Cioè, io ho visto Lukaku oggi che ha cercato di lottare comunque per la squadra. Non lo so, non lo so. Io resto spesso e volentieri deluso dal Beggio. Mi sembra una squadra eterna e incompiuta, poi la trovi sempre in posizioni alte dei ranking, però non ce la fa proprio, non ce la fa. Ripeto, oggi, comunque sia, avrebbe potuto far male alla Francia e l'avrebbe potuto fare con il suo giocatore migliore che De Bruyne. Non ce l'ha fatta e contro la Francia poi paghi. Però la Francia deve alzare i giri, deve alzare il livello, perché sennò, ragazzi, così è dura. Cioè, se non prendi la porta non puoi andare avanti a autogol, se non prendi Evo Rigorini, se non prendi la porta te ne vai a casa. E siccome la Francia è già andata a casa contro la Svizzera nell'ultima edizione, forse, forse, avendo la squadra nettamente più forte di tutte le altre, dovrebbe fare qualcosina in più. Onestamente non ho neanche capito il perché di un solo cambio da parte di Deschamps. Ha messo, appunto, Moani al posto di Marcos Turam. Non lo so, a me sarebbe piaciuto vedere in campo Kamavinga o lo stesso Comand, mi piacerebbe vedere. Cioè, pensate, sto leggendo qui i nomi, cioè, pensate a Zaire Meri, Giroud, Dembélé, Comand, Kamavinga, che a me Dembélé sapete che non piace, però comunque sia, guardate quanta rosa, quanti giocatori ha di qualità che comunque può mettere in campo. E gioca troppo, gioca troppo sotto alle sue possibilità la Francia. Ma detto ciò, ha fatto quello che doveva fare, ha passato il turno e adesso aspetta probabilmente il Portogallo, perché è davvero dura che il Portogallo si faccia buttare fuori dalla Slovenia, sarebbe a dir poco clamoroso. Io, ragazzi, vi do appuntamento a domani, perché a breve vado a lavoro, quindi non posso portarvi l'altro contenuto, purtroppo nel Portogallo. Adesso cercherò di portarvi nel caso domani mattina, o se no vedo se riesco a portarvi la partita tra Stati Uniti e Uruguay. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Io vi mando un forte abbraccio, avete iscrivetevi al canale, diffondete il verbo, ci vediamo qui molto presto e ragazzi, iscrivetevi perché è gratis. Ciao, obiettivo 10.000.